Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, proseguono i lavori serali di rinnovo integrale dei binari della metro A. Per lasciare spazio ai lavori dalla domenica al giovedì l'ultima corsa dei treni è alle ore 21, poi il servizio prosegue lungo tutto il percorso su bus con la linea MA. Il venerdì e il sabato i lavori serali sono sospesi e la metro A resta aperta così come tutte le altre linee metro sino all'1.30 di notte. Da ricordare inoltre che per lavori di rinnovo delle scale mobili sino al 30 di giugno è chiusa la stazione Vittorio Emanuele, in alternativa si può utilizzare la fermata Manzoni. Grazie a tutti.